Siamo con Marco Spiaggia, presidente della Confartigianato Caltanissetta. Buonasera. Buonasera. Qual è il futuro dell'associazione e cosa vorrete tenere del passaggio? Allora, come associazione ad oggi stiamo puntando fortemente sulle categorie, che siano categorie edili o imbiandistiche o, come oggi, sulla parte più manuale dell'artigianato. Ogni categoria ha una storia a sé, ha un lavoro particolare, ha una sua cultura e noi punteremo molto sulle categorie. Il lavoro fatto dal mio precedente presidente è stato ottimo e cercherò di continuare sulla stessa linea e la stessa strada. Non è la prima esperienza all'interno di Confartigianato, giusto? No, io già in Confartigianato sono dalla bellezza di 22 anni, ho cominciato come presidente dei giovani imprenditori, successivamente presidente di Confartigianato provinciale per il settore imbiantistico e adesso sono sia presidente regionale della categoria di imbianti termici che presidente di Confartigianato Caltanissetta da un paio di giorni. Qual è il primo programma che volete mettere in atto con il nuovo direttivo? Allora, col post-covid il nostro intento è ripristinare soprattutto gli incontri di persona con gli associati e capire post-covid quali sono le necessità primarie degli artigiani.